in collegamento telefonico a proposito degli attaccanti dunque vi diamo la destinazione di Maxi Lopez da domani sarà un attaccante del Milan quindi Maxi Lopez rimane in Italia e giocherà con la maglia rozzonera avrà la possibilità una bella possibilità di poter respirare nuovamente l'aria della Champions League con il Milan perché anche se il Milan dovesse prendere Tevez o Tevez che dir si voglia non potrà giocare in Champions League perché ha giocato 10 minuti con il Manchester City e quindi Maxi Lopez dopo tre stagioni lascia Catania per una grande società per il Milan domani visite mediche sono notizie non ufficiali cioè che la società non ha ancora dato sono notizie che arrivano dalla redazione di Antenna Sicilia e quindi di Sala Stampa Maxi Lopez è un calciatore del Milan e adesso spazio al basket tra poco